A partire da oggi 440.000 palermitani aventi diritto hanno la possibilità online di scaricare o richiedere ex novo il certificato di esenzione ticket per reddito. Attraverso una procedura semplice, intuitiva e soprattutto già nota, è possibile collegarsi con PC, tablet o smartphone all'indirizzo sportello.aspalermo.org, attivo senza soluzione di continuità 24 ore su 24. Se gli eventi diritto vorranno avere materialmente l'attestato, basterà registrarsi allo sportello online, poi cliccare sull'icona dell'esenzione e quindi stampare il certificato. Per i disoccupati, la procedura online prevede, oltre alla registrazione, anche di firmare il modulo di autocertificazione e di inviarlo attraverso una scansione o semplicemente una fotografia, insieme alla copia del documento di riconoscimento. L'utente sarà poi informato con un SMS della possibilità di scaricare l'attestato. La procedura di richiesta e rilascio attraverso internet del certificato di esenzione ticket fu sfruttata l'anno scorso da 294.281 palermitani, che evitarono in questo modo di recarsi nelle strutture dell'ASP. È uno strumento semplice ed efficace, che con pochi clic consente di stampare comodamente a casa il certificato di esenzione ticket per reddito, sottolinea il commissario dell'ASP di Palermo Antonio Candela. Il certificato di esenzione per reddito della maggior parte degli anziani aventi diritto risulta visibile anche al medico di famiglia. Oltre che online, da oggi è possibile chiedere il certificato rivolgendosi personalmente anche ai 68 tradizionali sportelli dislocati in 15 sedi di città e provincia. A Palermo ci si può recare al PTA Biondo di via La Loggia, al Guadagna di via Villa Grazie di via Giorgio Arcoleo, al PTA Albanese di via Papa Sergio I e al Poliambulatorio Centro di via Turrisi Colonna. Infine anche al PTA Casa del Sole di via Roccazzo. Gli attestati di esenzione e scadenza riguardano le seguenti categorie. E1. Soggetti di età inferiore a 6 anni o superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare, nucleo familiare fiscale, con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro. E2. Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare, fiscale, con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico. E3. Titolari di assegno, ex pensione sociale, loro familiari a carico. E infine E4. Titolare di pensione al minimo, di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare, fiscale, con reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.